Aggiornamenti delle nostre notizie che trovate chiaramente come sempre sul nostro sito SkyTG24.it che ci ricorda che oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Tutte quante le iniziative raccontate in questo articolo e poi vi facciamo anche la fotografia che è stata scattata da Utilitalia nel rapporto annuale sul settore dei rifiuti urbani in Italia che sta affrontando una serie di importanti riforme strutturali per garantire la transizione verso l'economia circolare. Possiamo lasciare il sito SkyTG24.it e andare a vedere invece le grafiche che abbiamo preparato per raccontare di questo rapporto che si chiama Green Book 2024 che evidenzia anche le criticità. Emerge la necessità di migliorare il sistema di gestione in particolar modo nel sud del nostro paese per raggiungere gli obiettivi europei entro il 2035. Il 65% del riciclo dei rifiuti urbani e lo smaltimento in discarica fino ad un massimo del 10%. Nel 2022 la produzione nazionale dei rifiuti urbani si è attestata al 29,1 milioni di tonnellate mentre la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto il 65% e il riciclaggio è pari a circa il 49%. Questi sono i risultati contenuti nel Green Book di Utilitalia sull'economia circolare. Ci sono le prime pagine, ora c'è il nostro Nicola Ghittoni andiamo subito da lui, eccolo qui, buongiorno. Buongiorno Toni, hai parlato di Giorgio?